Allora è innegabile che c'è grande soddisfazione da parte del Museo del Cinema, qua con il mio direttore Domenico De Gaetano, in sala vedo anche Gaetano Renda, membro del Comitato di Gestione e promotore di un importantissimo convegno, proprio fatto in apertura del Torino Film Festival sul tema dei temi, cioè quello delle sale cinematografiche. D'altro canto la scommessa di Steve, ma non voglio anticipare cose che dirà lui, la scommessa di Steve era proprio quella di riportare il pubblico nelle sale. Mi sembra di poter dire che questo risultato, questo Torino Film Festival l'ha raggiunto e di conseguenza da parte nostra c'è grandissima soddisfazione per questo, per il clima che intorno al Festival si è creato in città, che era un altro obiettivo che noi ci eravamo posti in questa edizione. Anche grazie, l'ho già ringraziato nella cerimonia di apertura, lo ringrazio di nuovo al maestro Nespolo che ha realizzato un manifesto che nella comunicazione ha la sua importanza, perché questo manifesto ha coinvolto, è piaciuto, è risultato, chiaramente abbiamo fatto un investimento in comunicazione importante, la città come avete visto era vestita a festa con questo bellissimo manifesto. Bene, noi siamo estremamente soddisfatti, diciamo grazie a Steve, questo grazie chiaramente. Vedete questo applauso presuppone tante cose che però hanno bisogno di tempi certi e dei tempi, ci sarà un comitato prima delle vacanze natalizie nelle quali chiaramente assumeremo certe decisioni. Oggi non posso, mi dispiace per chi se lo aspettava, dire nulla, ma dico abbiate fede e vedrete che il comitato farà delle scelte assolutamente giuste. Bene, Domenico, se vuoi tu dire qualche cosa e poi diamo la parola a Steve, al protagonista. Sì, buongiorno a tutti, è chiaro che la serata finale di Soluto si svolgeva la sera, con questa premiazione che di Soluto durava un paio d'ore, abbiamo scelto insomma di farla nel pomeriggio e sarà più breve, diciamo così, quindi ci sembrava come dire giusto, come la cerimonia di apertura, come la conferenza stampa, insomma scorciare i tempi, cercare di far sì che la gente effettivamente vada al cinema a vedere fin come effettivamente è successo. La nostra idea di quest'anno è stata quella di pensare al Torino Film Festival come una sorta di film della Marvel, cioè fare tanta comunicazione, fare in modo che diventasse effettivamente un festival evento, cioè bisognava in qualche modo esserci, andare a vedere qualche film, per chi ci è riuscito perché c'erano code interminabili, le masterclass assolutamente piene, quindi insomma mi pare che la città abbia reagito bene, l'immagine guida di Nespon si vedeva praticamente dappertutto, non soltanto in città, per le strade, ma anche nei negozi, poi insomma il look of the city, la casa festival che avete vissuto in questo periodo, che è stato davvero un importante investimento da parte del museo, anche proprio non soltanto per dire a tutte le persone andate al cinema a vedere film, ma avete anche un luogo di ritrovo che in qualche modo è sempre un po' mancato al festival, dove poter andare effettivamente a parlare una volta che il film è terminato, e quindi anche a bere qualcosa, poi c'era la musica, insomma un luogo davvero molto divertente. Detto questo, cedo la parola quindi al supereroe della giornata, anzi della settimana, prego. Io voglio ancora ringraziare i nostri soci sfondatori, che voglio ricordarlo a tutti, sono Comune di Torino, la Regione Piemonte, la Fondazione Intesa San Paolo e la Fondazione CRT, e anche la GTT, perché anche la GTT fa parte del gruppo dei soci fondatori. Bene, Steve, a te, eccomi qua. Allora, grazie. Certo che quando uno ha come gruppi Gaetano Renda è messo male nella vita, comunque. Allora, io incomincierei prendendo spunto da quello che ha detto il Presidente e anche da quello che ha detto il Direttore, li ringrazio entrambi, sull'importanza dei partner che ci sono. Ci sono stati parecchi enti, parecchie situazioni pubbliche e private che hanno reso possibile questa manifestazione. Ad esempio il Ministero della Cultura, la Direzione Generale Cinema, poi i soci fondatori del Museo del Cinema, che sono appunto la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, GTT, che sarebbe i trasporti, e l'Associazione Museo Nazionale del Cinema. C'è un main sponsor per il festival che è intesa a San Paolo, c'è un main media partner che è Rai, poi ci sono gli sponsor del festival che sono Italy e I Wonder, dei partner, il Teatro Reggio di Torino e Cassa Depositi e Prestiti, poi gli educational partner che hanno curato i rapporti con l'attività didattica, che sono l'Università di Torino, Politecnico di Torino, poi ovviamente Torino Film Industry, Film Commission Torino-Piemonte e lo IED. Abbiamo dei partner tecnici che sono Paratissima, Martini, Peirano, Combo, Wow, CIM 4.0, Fuoricampo, Bauhaus e Associazione Amici del Torino Film Festival. Il festival, ve lo ricordo, aderisce al protocollo Green di Affich, dell'Associazione dei Festival degli Italiani di Cinema, per rendere i festival dei cinema italiani ecosostenibili e a ridotto impatto ambientale. Infatti, mi avete mai visto con un mezzo diverso della bicicletta in questi giorni? No, infatti, anche io ho aderito personalmente, credo che sia una cosa, a parte gli scherzi, molto importante, dare un'occhiata al clima e alla sostenibilità ambientale. Quindi, fatelo anche voi. Vogliamo ringraziare i partner che stiamo a noi, stanno lavorando per un festival sempre più sostenibile e quindi c'è Drivalia, poi c'è IREN, IGP Deco, Tobike e SMAT. E poi abbiamo i media partner che sono Variety, Chuck, La Stampa, Cinecità News e Fred Radio. E adesso incominciamo subito a gran velocità con i premi collaterali, che sono premi che abbiamo un po' sfrondato, perché abbiamo ottenuto quelli che ritenevamo che fossero importanti, che raccontassero e che impersonassero degli sguardi specifici sul mondo del cinema in generale e sul mondo del cinema che presentavamo. Allora, c'è un premio della Scuola Holden, che, essendo una scuola di scrittura, è dedicato alla migliore sceneggiatura ed è assegnato dagli studenti del College Drama della Scuola Holden del Bienio 2022-2024. Gli ha coordinati l'osceneggiatore Aaron Ariotti e il premio loro l'hanno assegnato a Warpony di Rie Leikhoeg e Gina Gemmel. Quindi questo è il premio della Scuola Holden. C'è un premio Interfedi, che è un premio per il rispetto delle minoranze e per la laicità, assegnato dalla giuria Interfedi, che era composta da Walter Nuzzo, Danilo Pennacchia e Daniele Segre. Gli ultimi due, Pennacchia e Segre, sono presenti in sala. Segre l'ho visto, è anche Pennacchia. Ok. E il film che ha vinto è un film italiano di Marco Della Fonte, I sogni abitano gli alberi. Poi c'è il premio Gli occhiali di Gandhi, che viene assegnato dal Centro Studi Sereno Regis, al film che meglio interpreta la visione gandiana del mondo. La giuria è composta da Elisa Dorr, Ugo Fusi, Iole Michelini, Confort Onauka, Alejandro Palma, Giulia Russo, Irene Scali e Anselmo Stopani. Abbiamo due menzioni speciali, che vanno a Rosa, al canto delle sirene di Isabella Ragonese, e alla Hira de Totas l'Arabias di Laura Baumester. Mentre vince il premio, il film Mano d'Opera, Hunter Dio Chien aux Italiennes, di Alain Huguetot, che sarà proiettato questa sera come film di chiusura al Cinema Massimo, che è un film che mi sento di consigliarvi caldamente. C'è lo storico premio Achille Baldata. Achille Baldata, molti di voi non l'hanno neanche conosciuto, era uno dei critici più simpatici, era quello che era uscito dalla proiezione di Bubu di Montparnasse, di Bolognini, che era tutto girato a Torino nel quartiere di Portapalazzo, dicendo La giuria dei lettori di Torino 7 era composta da alcuni lettori, per l'appunto Laura Brusa, Igor Catrano, Giada Maldini, Gianluca Medina e Giuliana Prestipino. E viene premiato come miglior film del concorso di lungometraggi, Panphir, di Dimitro Sulitrochi Sovciuk, che è presente e quindi ritira la pergamena. Dov'è? Eccolo. Ci sei? Thank you very much. Thank you. It was very unexpected. And for me it's a very big first of all honor and thank you jury and thank you festival to invite a movie and to invite me here. Like for me Torino, it's a very special place because this movie was started here. The Torino Film Lab was first who believed in this project and seven years ago, no six years ago I was present here like a project and right now it's a completely finished movie and what I want to say is so the small help on the beginning bring and raise something special and make this help with the results. So right now for Ukraine it's the most important time when we stand again our enemies and when any support in this time for Ukraine when we fight with the Russian Federation when we stand through our independency and they want to destroy our nation right now with this winter will be very tough. the Russia have kind of a new type of the economical terrorism for not only for Ukraine but also for all Europe you will feel this during all this time after 24 February and I think you will feel this during this very tough winter what will be very tough also for Ukraine and for all the Europe and what I want to say so any help what can be do by give voice for artists to tell our stories to give support for volunteers medicine, give weapons for militaries it's everything bring us like a nation still exist and fight for our freedom thank you grazie mille Anna Ribotta adesso traduce questo discorso che è un discorso molto importante mi fa piacere che lo applaudiate vai Anna grazie grazie a tutti voi per questo premio assolutamente inatteso per me è un onore ringrazio la giuria e il festival di aver accolto me e il mio film Torino per me è un luogo molto speciale perché è stato grazie al Torino Film Lab se questo film è stato completato il Torino Film Lab è stata la prima entità a credere nel mio progetto sei anni fa e ora il film è concluso questo testimonia del fatto che un piccolo aiuto all'inizio può veramente contribuire a qualche cosa di molto speciale come voi sapete è un periodo molto critico per l'Ucraina e abbiamo bisogno di tutto il sostegno che possiamo avere contro i suoi nemici la federazione russa sta mettendo in discussione l'indipendenza del mio paese e della mia nazione sarà un inverno estremamente duro non soltanto per l'Ucraina ma per l'Europa tutta la Russia sta esercitando una forma di terrorismo economico nei confronti del mio paese e dell'Unione Europea tutti voi a partire dal 24 febbraio scorso avete potuto assistere a quello che è successo e sta ancora accadendo e ci attende appunto un inverno davvero duro quindi qualunque tipo di aiuto possa arrivare anche a sostegno degli artisti che cercano di raccontare le proprie storie è assolutamente fondamentale lo è tanto quanto le medicine che il mondo occidentale sta fornendo al mio paese o le armi per aiutarci a difendere e vi ringraziamo dell'aiuto che state dando per la difesa della nostra libertà e indipendenza grazie grazie è un intervento importante lo dicevamo c'è ancora un premio collaterale che è quello Rai Cinema Channel che consiste nell'acquisizione di diritti web e free tv per l'Italia per i migliori film del concorso cortometraggi Edoardo Pasquini e Vittor Ivanov lo hanno vinto per All Twix loro sono presenti qua e li salutiamo e li ringraziamo grazie e adesso passiamo ai concorsi ufficiali il primo concorso è un concorso che non c'era e come dice Abbas Pezzali che non c'era ieri oggi c'è quindi invece c'è il concorso Crisis che è un concorso dedicato all'horror e al cinema fantastico l'idea è quella di entrare nel circuito dei grandi festival che fanno questo cinema e di far parte del Label Black Window che è quello che in qualche modo li raccoglie e fa in maniera che le migliori produzioni arrivino allora avevamo una giuria molto quotata perché c'era Lamberto Bava che salutiamo perché è dovuto partire Silvia Pezzopane che rappresenta la quota critici che abbiamo messo in tutte le giurie e Carlos Vermuth vi prego di alzarvi Carlos Vermuth è stata un po' la scoperta del festival alzatevi soltanto salutate il pubblico ok allora abbiamo una menzione speciale che va a Pantafa di Emanuele Ascaringi per la sua interprete Greta Santi per la sua interpretazione spontanea accattivante che veicola grande emotività e intelligenza nell'affrontare le sfumature psicologiche del suo personaggio appunto in Pantafa di Emanuele Ascaringi invece il premio come miglior film della sezione Crisis va a Uesera di Michelle Garza Cervera che non è qui con noi adesso vedremo un video che ci ha mandato però come vi leggo la motivazione per l'inedito e disturbante racconto sul corpo femminile in una narrazione orrorifica orrorifica dalle vibrazioni oniriche con una protagonista che ne restituisce ombre e controsensi allora vediamo il suo messaggio ciao Torino Film Festival stiamo festeggiando la bella notizia del premio della sezione Crazy sono qui con Mercedes Hernandez e Mataclaia Moreno che hanno interpretato Uesera e siamo su set di un altro film felici di questa bella notizia grazie doppiate sempre una ribotta magica nella sua capacità di rendere quello che dicono in lingua straniere passiamo adesso alla sezione cortometraggi si chiama Spazio Italia è tornato questo vecchio nome che era un nome da cinema giovani quest'anno la giuria dei cortometraggi era composta da Erika Favaro che è dovuta partire che ci manda i suoi saluti Ilaria Feole e Luisa Porrino che invece ci sono salutate anche voi il pubblico brave Luisa Porrino poi ci ha regalato insieme a Connella Banfi di cui parleremo dopo quel bellissimo ritorno di Les Nuits Fav ieri sera un film straordinario ma ne parleremo magari più tardi allora abbiamo una menzione speciale per la buona prova degli attori nella messa in scena del confine tra finzione realtà e va ritirata di Gianmarco Di Taglia Di Taglia poi abbiamo il premio speciale della giuria che va a Edoardo Pasquini e Vittor Ivanov per la brillante gestione del ritmo comico e per la sceneggiatura che centra l'obiettivo del film breve quindi questo è il vostro premio speciale bravi complimenti e adesso e adesso andiamo al premio per il miglior cortometraggio lo vince Sirens di Ilaria Di Carlo che chiamerei qui sul palco intanto leggo la motivazione come Ulisse incantato dalle sirene l'autrice sceglie una prospettiva che ci immerge in una parvenza di sogno fatta di paesaggi lunari e surreali ma ci mette di fronte all'arroganza dell'uomo contemporaneo nel plasmare l'ambiente e adesso arriva il te l'ho già dato ok complimenti hai diritto il miglior grazie grazie mille alla giuria e a tutti voi del festival che ci avete ospitato è stato un grande onore presentare il film qui e ricevere questo riconoscimento grazie e mi ha fatto veramente è stata un'esperienza bellissima a stare qui questa settimana grazie grazie a te grazie Ilaria grazie mille proseguiamo a passo spedito siamo già alla sezione doc italiani il premio speciale della giuria la giuria è composta da Dario Zonta che è già partito poi c'erano Chiara Bellosi e Alessandro Rossetto dove sono? bene salutateli allora il premio speciale della giuria è dato a non parlons plus di Cecil Kindria e di Vittorio Moroni e i registi non sono qua ma hanno mandato un un brano un contributo per per ringraziare vediamolo ciao a tutti e grazie al festival di Torino grazie ai selezionatori grazie alla giuria per averci accolto e premiato in questo prestigioso festival il nostro film parla di profughi cioè di persone che sono scappate da un grande trauma nella storia e in qualche modo anche noi autori ci sentiamo un po' profughi nel senso che il nostro film sta avendo tantissime difficoltà sul territorio francese ad essere mostrato quindi il fatto che il primo festival che ci abbia accolto sia il festival di Torino un festival prestigiosissimo ci fa sentire come se come se ci aveste dato una specie di asilo politico quindi vi ringraziamo oltremodo per questo grazie infinite per questo premio siamo davvero molto felici e vi ringrazio anche a nome dell'intera comunità archi la loro è una storia passata sotto silenzio in tutto il mondo in particolare in Francia è stato molto difficile raccontarla quindi siamo oltremodo grati e anche molto onorati di ricevere un premio a Torino a un festival di cinema di autore ci commuove e ci onora molto ricevere questo premio e in effetti è un film molto importante Anna Ribotta l'aveva già visti prima non è che abbia capacità divinatorie di quello che viene detto sappiatelo e adesso andiamo al vincitore del primo premio per il concorso documentario italiani lo vince il corpo dei giorni del collettivo Santa Belva vorrei che loro venissero venissero qua perché dobbiamo consegnare il premio come vedete sono un collettivo nel vero senso della della parola spero che abbiate visto il film che è un film molto impressivo siccome mi hanno detto che avevo anche delle vicinanze ideologiche insomma in questo caso forse no no va bene ribadirlo subito grazie mille per questo premio chiaramente grazie enorme ai nostri produttori ai nostri amici al nostro ufficio stampa a tutte le persone che ci sono state vicine in questo percorso molto complesso grazie naturalmente alla regia al Torino Film Festival dopo due anni di recuperazioni di domande alla radice di questo film ci chiedevamo come sarebbe stato il rapporto con il pubblico come sarebbe stato portare la discussione da questo casale sperduto con un personaggio così complesso davanti a una platea vasta e dobbiamo dire che questo premio per noi è un enorme stimolo non solo da un certo punto di vista ci fa sentire capiti però ci dà anche un messaggio forte che questa forma di discussione questo grado di relazione con la storia il tentativo disperato di creare ponti col presente è qualcosa che non ha risuonato soltanto dentro di noi ma ha risuonato in termini più vasti anche all'esterno e questo davvero è una grande emozione per noi e credo abbia anche un messaggio fondamentale al suo interno che bisogna continuare a investire emotivamente intellettualmente economicamente insomma con tutti gli avverbi del caso nel cinema indipendente nel documentario indipendente nella fiction come nei corti perché in questo momento è davvero una forma di espressione che riesce a distanziarsi dalle logiche di mercato dalle logiche di promozione e a parlare con grande libertà speriamo insomma che questo sia uno stimolo enorme non solo per noi però diciamo per il mondo del cinema in generale ed è estremamente gratificante appunto spesso si dice venire a un festival è un cerchio che si chiude noi invece ci auguriamo che questo insomma sia l'inizio di un'espansione di una discussione di una riflessione che insomma continui a dare frutti quindi di nuovo grazie a tutti grazie grazie mille grazie effettivamente è un film molto forte molto interessante credo che avrà un suo futuro oltre qua grazie mille ragazzi c'è entusiasmo in sala allora adesso passiamo alla sezione doc internazionali l'unico presente della giuia è Miguel Valverde che rappresenta anche Massimo Danolfi e Ulgiana Kim che erano che hanno dovuto lasciarci ci sei? ciao eccolo lì ciao allora c'è un premio speciale che va a due vecchie conoscenze del Torino Film Festival Joao Pedro Rodriguez e Joao Guiguerra il film il titolo internazionale è Where is the street e gli consegniamo loro la tag dove siete? ci sono? ah venite prego come here ok buonasera grazie grazie alla giuria grazie al Torino Film Festival siamo molto contenti di ritornare qua e vogliamo compartire questo premio con Isabel Ruth l'attrice del nostro film che è un'attrice non solo portoghese ma internazionale una grande attrice mondiale direi grazie 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 Isabel Ruth anche lei era stata ospite quando facemmo la personale di Paolo Rocha una bellissima personale che fece Roberto Turrigliato mai credo più di vent'anni fa venne qui e girò anche un film con Torino De Bernardi quindi il festival anche in questo caso serve poi ad ampliare gli orizzonti delle persone che vi partecipano invece il premio per il miglior documentario internazionale che è dato da iWonderful e va a Riosville USA di Sierra Pettengill da quegli miei appunti non si capisce se Sierra è qui presente credo di no ok perfetto allora le manderemo il premio come facciamo con tutti quelli che sono assenti e comunque anche questo è un documentario molto importante passiamo adesso alla sezione lungometraggi che poi è anche l'ultima sezione abbiamo una giuria della quale sono veramente orgoglioso composta da Nella Banfi Martina Parenti Mike Kaplan Fabio Fersetti Fernando Juan Lima potete anche venire qua eccomi avete facoltà di venire qua allora io comincio con i premi e poi vi lascerò il microfono alla fine diciamo che però c'è una motivazione che mi fa molto piacere leggere prima di passare all'annuncio dei premi la giuria tiene a ringraziare Torino Film Festival per la qualità e la varietà della selezione e quindi già questo fa un certo piacere e assegna una menzione speciale a Nagisa di Takeshi Kogahara per la ricchezza e l'originalità del suo linguaggio premio decisamente meritato perché è davvero un film molto innovativo e adesso passiamo ai premi miglior sceneggiatura del Torino Film Festival numero 40 va a Jamie Deck e Audrey Findlay per Palm Trees and Power Lines poi passiamo ai premi per la miglioratrice e migliorattore della quarantesima edizione i migliorattori sono due sono due migliori attori sono la Daniel Crazy Thunder e Jojo Baptiste Whiting per War Pony di Riley Kog e Gina Gemmel la miglioratrice è una sola ed è Julile Drew per Rodeo di Lola Kiveron gli applausi servono anche per girare il foglio grazie mille premio speciale della giuria in questo caso va alla regista e non all'attrice del film Rodeo e premiamo Lola Kiveron che è qua che non è qua ma il il premio viene ritirato da Giorgia Fassiano di iWonder che è il distributore italiano vieni Giorgia grazie abbiamo chiesto alla regista e all'attrice di mandarci un video ma la regista è in Giappone e l'attrice è timida però suppongo che avrebbero detto grazie quindi grazie grazie a voi grazie grazie Giorgia e siamo arrivati adesso al momento finale quello in cui viene premiato il miglior film della quarantesima edizione del Torino Film Festival forse l'avete intuito anche degli altri premi il premio va a Jamie Deck per Palm Trees e Power Lines e adesso abbiamo un messaggio lui non è timido non è in Giappone quindi ci ha mandato un messaggio di ringraziamento ciao sono Jamie Deck sceneggiatrice e regista di Palm Trees e Power Lines vorrei tanto essere a Tulino in questo momento per riterare questi due premi di persona mi accontento di registrare questo video per dirvi quanto ci sentiamo tutti incredibilmente onorati e grati per i due premi so di parlare anche a nome della mia co-sceneggiatrice Audrey Findlay dicendo che il premio per la miglior sceneggiatura è molto importante per noi voglio anche ringraziare gli altri miei collaboratori in particolare Lea Chen Baker la mia produttrice e i miei attori Lily, Jonathan e Gretchen se avete visto il film avete visto le loro incredibili interpretazioni si sono dedicati a fondo ai propri personaggi fidandosi di me e lavorare con loro è stata una delle esperienze più speciali della mia vita sono esternamente grata a tutti loro e grazie ancora a voi per i premi sono molto importanti per tutti noi ho corso troppo addirittura anticipa quello che viene ok grazie allora io volevo dire qualcosa su questa giuria ma anche sulle altre giurie approfitto che loro sono tutti presenti per dirlo allora ci sono due filosofie sulle giurie dei festival una filosofia è quella di prendere delle persone comunque note per attirare l'attenzione del festival una seconda filosofia è quella di prendere delle persone che hanno fatto delle cose importanti ma il criterio principale è che siano competenti ecco io ho scelto questo secondo criterio per tutte le giurie sono molto contento di averlo fatto perché i premi rispecchiano questa cosa ma lo rispecchia anche il loro atteggiamento allora fuori da ogni scaletta mi piacerebbe se ciascuno di loro dicesse in 10 secondi 15 facciamo che cosa è stato il Torino Film Festival per loro e Anna questa volta deve tradurre cominciamo con Fabio che parla italiano io ho bisogno di pensare sono lento sono un quotidianista lento ma è stato molto bello l'abbiamo detto è stato anche bellissimo condividere questo tempo con i miei compagni di giuria che ringrazio uno ad uno veramente col cuore e non lo faccio spesso chi mi conosce lo sa perché abbiamo anche discusso pochissimo siamo arrivati i film si sono imposti anche se come abbiamo tenuto a sottolineare ce n'erano tanti di film molto belli e come sempre non c'erano come dire abbastanza premi ma è giusto così è inutile e tengo anche io a sottolineare come ha appena detto la regista e stavamo per scrivere lunghe motivazioni ma non l'abbiamo fatto che appunto i due protagonisti del film vincitore sono veramente parte integrante della sua grandissima riuscita quindi grazie Steve grazie a tutto il Torino Film Festival per queste giornate non posso anch'io che ringraziare tutti voi perché avete dato l'opportunità di fare un'esperienza che è stata una vacanza anche una vacanza dentro dentro i film per cui grazie mille grazie a tutti grazie a tutti Non posso parlare molto, ma questa è stata un'esperienza meravigliosa, essere a giurio, è come avere una nuova famiglia per 10 giorni, e essere a giurio, e per aver capito questi meravigliosi film da tutto il mondo, mi ha spostato a un po' più informazione, e mi è piaciuto essere potuto votare per i venitori. Grazie, scusate la mia laringita mi impedisce di avere una voce a un volume normale, mi associo nel dire che è stata davvero una meravigliosa esperienza, per me è stato come trovare una nuova famiglia e adottarla per 10 giorni, un'esperienza straordinaria che mi ha messo in contatto con film che provengono da tutte le parti del mondo, e quindi mi ha permesso di imparare tante cose. Grazie ancora. Allora, io voglio prima ringraziare Steve, 30 anni dopo, eccomi qua, dopo aver ritirato un premio del festival, eccomi in giuria. È stata una bellissima esperienza, e i compagni di viaggio, grazie della scelta, e soprattutto grazie per la qualità dei film che abbiamo visto. Nella avendo prodotto le Nui Fove e quasi tutti i film di Nanni Moretti di qualità se ne intende. Grazie, grazie. Grazie, the festival, it was great. It was great to share with the jury, the selection was great. sometimes it happened that you feel like you are on holiday with your friends, and you are welcome too, because we did see a lot of films, we debated about them, and we had a great time. congratulations for a great festival, and thank you. Grazie. Grazie Steve, grazie al Torino Film Festival, davvero per una selezione bellissima. A volte avevamo la sensazione di essere in vacanza, ma abbiamo sempre compiuto il nostro lavoro vedendo i film e parlandone a lungo. E congratulazioni, grazie davvero. Benissimo, vi ringrazio anch'io, accomodatevi pure perché la cerimonia sta per finire, tra poco scorreranno dietro di me i nomi delle tante persone che hanno fatto parte di questo staff. Non sto a ringraziare nessuno perché farei un torto agli altri, perché devo dire che ciascuno ha dato il suo contributo. Pensate, prima mentre leggevo i premiati, notavo che soltanto in un caso il primo a segnalare uno dei film premiati sono stato io, sempre dopo sono arrivato. Quindi se non avessi avuto uno comitato di selezione straordinario tutto questo non sarebbe avvenuto. Se non ci fosse uno staff stupendo, ci sarebbero stati un sacco di problemi perché grazie anche allo sforzo del museo, soprattutto grazie allo sforzo del museo del cinema, ci siamo espansi quest'anno, abbiamo creato questa struttura straordinaria, insomma che devo dire, non ha tanti uguali in giro per il mondo e che però è stato uno sforzo organizzativo enorme, così come lo è stato fare in maniera che nelle sale ci fosse il minimo possibile di problemi. E questo credo che sia importante per fare il festival. Dunque, vi ricordo che domani c'è una rassegna dei film che hanno vinto dei premi al cinema massimo, quindi il programma è già in distribuzione, credo da adesso, perché è già pronto, quindi potete poi scegliere cosa vedere, cosa recuperare. La 41esima edizione del Torino Film Festival si svolgerà a Torino dal 24 novembre al 2 dicembre 2023, quindi c'è ancora tempo per parlarne. Volevo solo dire una cosa invece personale. Allora, io sono stato benissimo in questa edizione, ho avuto un ottimo rapporto con il Museo del Cinema, ho avuto, come dicevo, un ottimo rapporto con le persone che hanno lavorato con me. Io non so se il festival è, anzi, i festival perfetti credo che non esistano, e quindi questo non è un festival perfetto. Credo che, come tutte le cose umane, sia ampiamente migliorabile. E non so neanche se poi vi è piaciuto davvero, insomma, se queste cose, che bello, che bello, poi sia davvero una cosa vera. Io quello che vi posso dire sono due cose, una oggettiva e una soggettiva. Quella oggettiva è che dicevamo che volevamo riempire le sale, le sale francamente le abbiamo riempite, quello credo che non sia in discussione. Quella invece soggettiva è che, appunto, non so se abbiamo fatto un festival bello, però ho fatto il festival che volevo fare. Volevo un festival in cui, come dicevo prima, ci fossero persone competenti a giudicare i film e non fossero scelti per la fama. Volevo un festival in cui ci fossero delle star notevoli, internazionali, importanti, ma che non venissero qui solo a fare passarella, bensì a incontrare il pubblico. E come avete visto, tutti quelli che sono venuti, anche quelli più rari, perché Marco McDowell non è che vada dappertutto, perché Tony Servillo non è uno che fa masterclass in giro per l'Italia, perché Paolo Sorrentino non è uno che basta fare snap e arriva. Insomma, non è così facile. Tutti sono venuti, tutti sono stati generosi. Sulla selezione, ho già detto prima, credo che anche la componente di divertimento che abbiamo cercato di mettere in tutto quello che abbiamo fatto, io vi compresa una scelta che rivendico fino in fondo. C'è la scelta della serata inaugurale con Hollywood Party, con i Beatles, al Teatro Reggio, eccetera. E anche quella è sicuramente perfettibile, però anche quella è un fatto unico. Il Festival di Torino deve essere un festival unico, non può essere un altro dei tanti festival che ci sono in Italia. Deve essere un festival che ha una sua personalità, una sua identità e che è capace di essere riconoscibile in questo anche dalle scelte che fa. Quindi su questo credo di essermi battuto fino in fondo. Ma no, non è che avessi dei nemici, insomma, di averci messo in gioco tutto me stesso. Anche la scelta, ricordata prima da Enzo Ghigo, di aprire il festival con un convegno sulle sale cinematografiche. Beh, secondo me, quella è una scelta, che ha fatto il Museo del Cinema, che l'ho indetto, ma è una scelta che dimostra che il festival è davvero sensibile ai problemi che ci sono. Il problema delle sale è davvero un problema. Andateci in sala, guardate il festival che ha riempito le sale e ha visto la gente apprezzare i film. Gli stessi film, se li vedevano in streaming, sarebbero piaciuti molto di meno. Ve lo posso garantire, guarda, perché è una cosa che succede anche a me, questa. Ci sono dei film che vedo per lavoro sul computer, poi li rivedo al cinema e dico, azzo, però non avevo capito niente, insomma, c'è questa componente che abbiamo cercato di essere, cioè di essere dentro quello che succedeva, ma farlo, non siamo tromboni, l'abbiamo fatto con leggerezza, ma vi garantisco anche con attenzione e mettendocela veramente tutta. Quindi, grazie, buona fine festival e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie. 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 Grazie.